Marta Vicinino Marta Vicinino ha iniziato la sua carriera di Canuttira nel 2015 ed oggi è una delle atlete più medagliata dello storico circolo dei canottieri Irno di Salerno e non solo a European DOR di categoria che si sono svolte in Polonia ha conquistato 5 medaglie di cui 2 d'oro questa è una delle premiazioni della 24enne atleta salernitana l'emozione dell'inno di Mameli a cui aggiungere quella di una dedica particolare al suo primo allenatore il compiato Gigi Galizia scomparso prematuramente nell'estate dello scorso anno l'ho dedicato tanto a Gigi Galizia che mi ha dato tanto mi ha insegnato da male questo sport e ad allottare per la divisa nazionale sono sicura che sarà pieno di me e ho dato tutto il massimo per questo lungo percorso e ho dedicato questa vita nel lupi successi di Marta Piccinino, frutto di un lavoro che affronta con piacere e che l'hanno portata ad essere una delle punte di diamante della nazionale di canottaggio indorre italiano traguardi raggiunti che non fermano Marta che non nasconde obiettivi sempre più ambiziosi ci saranno altre Olimpiadi i prossimi cari che ci stanno speriamo che l'anno prossimo ci sia un altro obiettivo ci sarà per fare Gigi